È la squadra che ha più età di tutte quante le altre e quindi cerchiamo di mettere in campo la passione che ci accomuna tutti quanti, la determinazione, cerchiamo di sopperire con l'esperienza e tirandoci, rimbocandoci le mani perché lo sport è anche questo, è una metafora per la vita e quello che è una soddisfazione anche in questo caso qua, ocheistica, lo è anche quando andremo fra poco negli spogliatoi e avremo questo senso di piacere a pagamento, dato dal fatto che ci siamo impegnati, ci siamo impegnati, abbiamo dato il meglio, si vede che è ancora il cuore in gola e questo ci avrebbe reso soddisfatti anche se non avessimo ottenuto il risultato. Noi abbiamo un settore giovanile anche qui a Pesaro che sta adesso prendendo piede, grazie anche al lavoro che fa mio fratello come allenatore anche dei più piccoli e quando loro guardano una partita del genere, quando avranno modo, ho finito questa pandemia, di poter venire anche qua a vedere. Quello che vorremmo trasmettere è proprio questo, la passione, la determinazione, l'impegno, la dedizione, la coesione e il fatto che si possono raggiungere risultati e soddisfazioni anche a dispetto dell'età. Senza un settore giovanile non andiamo da nessuna parte, i bambini sono il nostro futuro per creare una tradizione che qua di hockey a Pesaro c'era negli anni 80, noi vogliamo cercare di portarla a buoni livelli e sicuramente noi ci divertiamo ancora in pista, corriamo ma il futuro sono i giovani. Uno degli obiettivi della società, mio e di tutti, è di portare l'hockey a Pesaro perché è uno sport spettacolare, come la città di Pesaro ama gli sport spettacolari come il basket, adesso il calcio a 5. L'hockey a certi livelli, ad alti livelli è spettacolarissimo. Io spero che il comune ci dia una mano senza magari prefissarsi una data, però prima o poi portare l'hockey e farlo conosce veramente ai pesaresi perché è uno sport che merita. Grazie a tutti.